Giuseppe Varrina, segretario provinciale FIMG, Federazione Italiana Medici di Famiglia, scrive Nonostante un clima di calma apparente nella nostra provincia, la mancanza di test specifici come tamponi o test seriologici non ci fa uscire dalla fase 1 che stiamo ancora vivendo in pieno. È impossibile che un'azienda sanitaria provinciale al servizio di una comunità di circa 200.000 abitanti ottenga i risultati di solo 10 tamponi al giorno. Inoltre, un discorso a parte riguarda la programmazione sui test seriologici per la determinazione degli anticorpi, che nel nostro territorio di competenza, a differenza di altre realtà del Paese, non sono nemmeno partiti. Sono state istituite le USCA, le Unità Speciali di Continuità Assistenziali per l'assistenza domiciliare, ma il vero problema nel nostro territorio rimane, nonostante i numerosi appelli fatti nelle scorse settimane, la mancanza di kit per effettuare i test. Solo in questo modo potremmo identificare rapidamente i contagiati, ovvero sottoponendo i test tutti i contatti, intervenendo in maniera celere, isolando e curando i malati. La cura domiciliare di pazienti affetti dall'infezione da Covid-19 prevede anche un trattamento farmacologico-antibiotico associato alla idrossiclorochina, il farmaco normalmente usato per la malaria. Abbiamo già dei risultati abbastanza soddisfacenti nel Lazio, però sia chiaro, non si può usare in tutti i casi e comunque è necessaria l'assistenza continua del medico che caso per caso deve valutare il rapporto rischio-beneficio. Un'altra azione fondamentale è quella di fornire a questi pazienti dei saturimetri in grado di verificare l'ossigenazione del sangue e di conseguenza un possibile aggravamento del paziente stesso. La strada per raggiungere traguardi, certi, passa solo attraverso la somministrazione di più tamponi e test sierologici. In questo senso non possiamo permetterci di perdere ulteriore tempo.